È stata una giornata diversa dal solito per i piccoli allievi della scuola elementare Giuseppe Cagliati di Bitonto che questa mattina hanno avuto la possibilità di abbracciare alcune ragazze della squadra del Bitonto Calcio a 5 femminile. Le calcettiste visibilmente emozionate sono state accolte dal grande entusiasmo degli alunni delle classi terze, quarte e quinte ma soprattutto dalla loro genuinità rivolgendo alle stesse domande riguardo la loro vita, il loro lavoro e i loro interessi extrasportivi. Una esperienza questa fortemente voluta dai docenti e dalla regente della scuola Cagliati, la dottoressa Carmela Rossiello all'interno di un progetto scolastico per avvicinare i bambini sempre più alle discipline sportive e allo sport in generale. Per noi è fondamentale cominciare a far capire fin dalla tenere età l'importanza di fare sport e soprattutto avere una testimonianza così reale, così concreta di atlete che ci stanno dando tante grandi soddisfazioni quindi per noi è importante questo. Abbiamo raccontato loro di questa squadra che si è creata grazie anche al presidente Silvano Intini che piano piano ha portato la nostra città così alla gloria perché ci stanno dando veramente tante soddisfazioni quindi i bambini sicuramente porranno delle domande, delle domande che forse saranno anche personali come magari hanno cominciato questo sport. Molto divertita di tutta la giornata anche il capitano della squadra di futsal femminile Lucy Leia che giocando e interagendo con i bambini ci ha segretamente confidato che nei suoi pensieri oggi si è sentita un po' la bambina di ieri che giocava nelle strade del suo Brasile. A noi ci fa piacere essere qua, avvicinare sempre di più questi sport ai bambini che ci coinvolgono sempre e poi è come ritornare da piccola per noi. Infatti abbiamo visto che ti stai divertendo. Sì, poi loro hanno un'energia diversa che ci trasmette tante cose buone. Senti, quanto è importante trasferire nei bambini la volontà di cominciare a fare sport? È tanto perché da lì si parte tutto. Se vogliamo far crescere il movimento dobbiamo per forza iniziare dai bambini che sicuramente saranno la generazione futura di questi sport. Quindi è importantissimo farli conoscere tutto il palone, le regole perché lo sport è bello.